Cosa fa il rumore della telecamera? Cosa fa il piede? Diamo! Siiii! Questa! Questa! La uratare carmere a roto veloce! Questa! 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 Sto facendo i lavorini Pensavo che eri di là Io quasi ero molto molto veloce Macchina Lì dice che stanno solo facendo dei lavorini Sì, stanno facendo la casa qui Perché non c'è un signore? Non so